Oggi parleremo di Spider-Man 3, quindi mettetevi comodi. Dopo tanti titoli falsi e anche personaggi che non sarebbero centrati in nulla, tipo Daredevil oppure anche Kraven, cioè il cacciatore, siamo arrivati a una conclusione. Il film si chiamerà Spider-Man No Way Home. I cattivi principali saranno Doctor Octopus di Spider-Man 2 e Letro di Spider-Man The Amazing 2, mentre sulle questioni del multiverso, in senso che con gli altri Spider-Man non si sa ancora nulla. Infatti nel cast non se ne parla proprio. Si parla infatti di Doctor Strange e il fratello di Tom Holland che farà un cattivo. O un ladro, non si è capito bene. Ned Lenz, cioè Jacob Balton, l'attore, potrebbe anche interpretare Green Goblin in questo nuovo film. Dopodiché anche una dei personaggi principali femminili, in questo caso, o MJ o Zia May, potrebbero muorire in questo film. Quindi il nostro carissimo Spider-Man di quartiere potrebbe rimanere da solo senza uno dei due personaggi. Nel caso della Zia sarebbe un po' come Zio Ben e DMJ invece di Gwen stesi in Spider-Man 2. Quindi io spero che queste notizie vi siano state d'aiuto e noi ci rubiamo ad un prossimo video. Bye nerd!